Allora qual'è il tuo rapper preferito? Dorme, oh, tormento e primo, a numero uno, non c'è altro Ragazzi allora il rapper preferito? Il rapper io ovviamente Tu qui di questa sera, come ti chiami? Io Noia Mattia, lui è Trava Noiz Noia Ah Noia E' un'altra schiena Bella la maglietta Com'è? Bella raga Io sono Trava, Level Up by Torino Ah quindi anche voi eh Torino Ci siamo dentro, ci siamo dentro Ci siamo tutti Quindi siete dei rapper, siete uno di qui a Fai sentire e vedere il tatuaggio con la nota musicale Con la chiave di solito Con la chiave di solito Con la chiave di solito Sì bravo Complimenti anche per le magliette Quindi stasera, a parte voi che vi esibite stasera no? No, stasera non ci esibiamo ma supportiamo tanta gente E che supporti soprattutto? Salutiamo i nostri amici, bella Primo, bella Tormento Tormento Salutiamo tutta la parco di Finest Tormento scusa di dov'è? Tormento è di Roma? No, no, Genova Di Bari Adesso vive a Firenze Perfetto Salutiamo il suo bimbo e sua moglie Assoluto Benissimo Ciao a tutti Ciao Bella lì E' per preferito scommetto Salmo? No No, no perché no Quindi qual'è il tuo rapper preferito stasera? Tufingers Ah ok, no no Visto Tufingers è quello con Caparezza che ha fatto l'ultimo video musicale no? No, no No, no, stasera Ok, grazie Ci siamo